Andrea Corletto, ripercorriamo un po' la storia delle beccherie che tu gestisci dal 2014, questo è il tempio del tiramisù? Diciamo proprio di sì, qui nel 72, intanto stiamo parlando di un locale storico, un locale dei primi del novecento, un locale che fa parte dei locali storici d'Italia sempre di proprietà di una grande famiglia che è la famiglia Camperoni. La storia vuole appunto che innanzitutto la ricetta del tiramisù è stata codificata nel 72, quindi davanti a un notaio è stata codificata questa ricetta con la grammatura e il quantitativo di savoiardo e di ingredienti per fare il tiramisù che tutto il mondo conosce, ecco questo sì. La storia però è anche un po' più vecchia, nel senso che il tiramisù non è che è stato creato nel 72, ma naturalmente nella storia di Treviso, soprattutto del Veneto, era già presente un po', diciamo che è stato il primo ristorante al mondo a mettere il tiramisù in carta su un ristorante, quindi diciamo che un po' possiamo assolutamente dire che il tiramisù ha una mamma sola, ecco, la beccheria. Oggi il locale è molto diverso rispetto a come era un secolo fa ormai? Beh, diciamo di sì, diciamo che quando siamo entrati noi, nove anni fa, il locale si presentava esattamente un po' come era nel passato, quindi molto Liberty, anni venti, anni trenta, molto legno, tendaggi molto pesanti, era proprio un simbolo della vecchia ristorazione storica eccelsa che era, una cucina tipica, assolutamente tipica, che diciamo era già famoso in tutta Italia e venivano per mangiare bollito, per mangiare la tartar fatta al tavolo, c'era una sorta di piacere anche per i trevigiani festeggiare qui i loro eventi, insomma, per cui era proprio un fulcro, è sempre stato un fulcro per il trevigiano e anche per il resto. Il tiramisù oggi come si propone? Il tiramisù si propone come ricetta vuole, innanzitutto in rotondo, come la ricetta originale vuole, non c'è alcol all'interno perché è nato appunto pensando alle donne incinte, ai partorienti, ai bambini, per cui nel nostro nel nostro passato, perché io sono trevigiano doc, diciamo che la mia bisnonna, la mia nonna, comunque tutti, un po' di alcol all'interno lo metteva, perché si usava anche l'albume, invece la ricetta originale vuole solo il rosso dell'uovo, di conseguenza non sa magari quel profumo un po' fastidioso che poteva dare la crema a suo tempo e comunque è stato creato per tutti, per i bambini soprattutto e per i partorienti, per cui non c'è alcol. Il tiramisù lo mangiamo un po' dappertutto ed è, nonostante la ricetta sia quella, in qualche modo è sempre diverso, come mai? Semplicemente perché il tiramisù è mondiale, cioè il tiramisù ha fatto quello che la Saker ci ha messo 200 anni, il tiramisù l'ha fatto in mezzo secolo, cioè essere presente in tutto il mondo è la quinta parola più cliccata italiana al mondo, per cui è entrata nel sistema naturale, perché in primi si può fare a casa tranquillamente, poi quel fatto che i veneti si sono anche sparsi, hanno portato questa idea di tiramisù, e perché si può fare in milioni di modi, noi qui a Treviso facciamo il tiramisù work up, per far vedere appunto che ci sono tanti modi per presentare un tiramisù, però ci teniamo sempre a dire che la ricetta quella che poi è partita per creare tutto questo è nata qui, insomma. E poi abbiamo a che fare comunque con un po' dei paesi in tutta Italia che rimarchano il fatto che sia nato nel loro territorio, ecco, soprattutto i friulani. Invece è nato qua. E invece, mi spiace per loro, ma è nato qui. Grazie. Grazie a tutti.